ITR, gamme e zuccherificio, ovvero la storia infinita di tre aziende parapubbliche che, dopo aver dilapidato ingenti risorse, continuano a tenere col fiato sospeso centinaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, in particolare alla ITR, secondo quando dichiarato da Antonio Bianchi nei giorni scorsi, due terzi dei dipendenti, ovvero oltre 400 persone, dovrebbero restare a casa per sperare di salvare l'azienda. A distanza di qualche giorno è arrivata puntuale la replica dell'assessore alle attività produttive Massimiliano Scarabbeo che ancora una volta non ha risparmiato critiche al patron della ITR. L'ITR non è una partecipata, è una società interamente rappresentata da capitale privato. È chiaro noi come senso di responsabilità, come rappresentanti appunto regionali, ci stiamo facendo carico delle nostre responsabilità. Purtroppo dall'altra parte abbiamo un imprenditore che sta dimostrando effettivamente di non voler bene a questa azienda, di non essere interessato alla nostra regione e fino a quando ha potuto prendere è rimasto all'interno dei suoi confini non solamente aziendali ma anche di etica imprenditoriale e personale. Per il resto noi siamo in attesa dell'incontro della prossima settimana presso il Ministero dello Sviluppo Economico augurandoci pure che l'imprenditore venga con delle proposte serie. Ci sono possibili nuovi acquirenti all'orizzonte? Ma ci sono state delle proposte, delle proposte che sono pervenute qui direttamente in regione come sono delle proposte che sono pervenute direttamente presso il Ministero dello Sviluppo Economico però la condizione sine qua non è quella della sua non presenza all'interno della struttura e quindi questo ci vincola ad attendere tempi e modi dell'imprenditore di riferimento. Che succederà invece alla GAM? Siamo obbligati a dover uscire fuori da tutte quante le partecipate, questo passa anche attraverso disposizioni legislative attraverso le Existrategie. Rispetto a un'azienda che per noi è l'elemento fondamentale proprio di sopravvivenza non solamente per l'area matesina ma anche per tutto un tessuto economico e sociale di gran parte del nostro Molise, siamo disposti ad intervenire sulle infrastrutture, siamo disposti a migliorare quelle che sono le strutture produttive per cercare di rendere il plesso produttivo più appetibile possibile verso qualsiasi imprenditore interessato alla struttura stessa. Ma le trattative con i soci privati, con eventuali nuovi soci privati, come procedono? Sono in fase avanzata, è chiaro che c'è un confronto tra le parti, c'è un discorso che si sta prendendo a 360 gradi, ci stiamo soprattutto preoccupando anche delle persone che poi non avranno più collocazione all'interno dello stabilimento, stiamo cercando di mettere in atto delle misure che in qualche modo possano garantire alla stragrande maggioranza degli operatori diretti e indiretti del polo avicolo molisano di poter continuare ad operare però in maniera letteralmente differente rispetto ai periodi precedenti ma soprattutto in maniera molto più serena.